Il destino gli ha concesso una seconda occasione con la Serie B, che dopo essere sfumata sul più bello nella sventurata trasferta di Siena, è ora di nuovo ad un passo. Il piace? Domani sera tornerà a giocarsi tutto in una sola partita, contendendosi con il trapani, il tanto agognato salto in cadetteria. Le doppie chance capitano raramente nella vita. Lo sa bene mister Arnaldo Franzini, che a poche ore dal volo che porterà i suoi in Sicilia, traccia la rotta che dovranno seguire i biancorossi. Dobbiamo cercare di rimanere più attenti, più concentrati, più equilibrati possibile, perché il resto può essere solo dannoso. Siamo carichi, vogliamo prenderci questo risultato importante e per farlo dovremmo fare una grande partita e fare una grande impresa sicuramente. Dopo lo 0-0 del Garilli, il trapani avrà ovviamente il coltello tra i denti. Partiranno forti, sono in casa, sul loro campo hanno sempre fatto bene, conoscono molto bene il terreno, cercheranno di partire forti. Secondo me anche più di quello che non hanno fatto qua, anche riscando qualcosa in più. Però insomma noi dobbiamo essere pronti a questa partenza, a nostra volta essere determinati già da inizio partita. La cosa che dobbiamo fare rispetto al primo tempo dell'andata è avere più qualità nel palleggio, altrimenti diventa complicato. Però lo sappiamo, lo sappiamo, l'abbiamo fatto molto bene questo tipo di gioco a Imola, l'abbiamo fatto meno bene in casa. Poi nel secondo siamo andati molto meglio, dobbiamo avere più continuità nell'arco della gara. Abbiamo visto che non è che nessuno ci regala come è giusto che sia, però speriamo di farcela, speriamo di riuscirci con le nostre forti che abbiamo fatto fino adesso, dal 15 luglio fino ad arrivare adesso.